Per la prima volta nella sua storia la Trentino Volley ha deciso di presentare in modo ufficiale il proprio settore giovanile e lo ha fatto in modo originale mettendo in primo piano un progetto molto importante dal titolo Big School. Il fine è quello di portare cultura sportiva nelle scuole. Ogni istituto, in tutto saranno 14 scuole medie, avrà un suo giocatore simbolo, una sua mascotte che arriva direttamente dal team delle meraviglie allenato da Radosnstoychev. Un modo concreto di portare l'esperienza Trentino Volley maturata nel settore giovanile con titoli nazionali Under 20, 18, 16 e 14, anche nel settore scolastico. Questo anche per far crescere il mondo pallavolistico di casa nostra, trovando direttamente nelle nostre scuole i giocatori del futuro come hanno sottolineato il direttore tecnico del settore giovanile Andrea Burattini ed il responsabile del progetto Big School Matteo Zingaro. Un impegno a 360 gradi che mette però sempre, accanto alla crescita sportiva dell'atleta, anche quella dell'uomo. Famiglia, scuola e sport diventano un tris vincente. Io credo molto nello sport come stile di vita, nello sport come valori e stare insieme, nello sport come professionalità, come professione. Per cui sì, va benissimo andare in palestra, allenare i ragazzi, però tutto questo inserito anche in un contesto e in un tessuto del Trentino. Ad appoggiare il settore giovanile del progetto Big School anche due nuovi sponsor come Banca di Trento e Bolzano ed Origoni. Due partner importanti che hanno deciso di supportare il mondo del settore giovanile proprio perché considerato fondamentale per la corretta e sana crescita di tutti i ragazzi in età scolastica.